Ma Federico Paris, Roberto Chiappa, i due azzurri, gli australiani Stephen Tate che è stato campione del mondo nell'88 nella velocità professionisti con Danny Day, prima prova della finalissima, è l'ultima giornata dei campionati del mondo qui al velodromo di Amar in Norvegia tre le maglie ridate in paglia oggi, il tandem, poi il mezzofondo con il nostro Fanelli e la corsa a punti con Martinello accanto a noi capitano, capitano che aveva conquistato il titolo mondiale insieme a Paris nel 90 e nel 92 e che proprio alla vigilia di questo mondiale ha dato forfì, per quale ragione? Sicuramente perché ero abbastanza stressato, c'era forse da un lungo collegiale e anche da certe situazioni che si sono create all'interno del gruppo Gli italiani che si sono allenati per la prima volta proprio due giorni fa hanno fatto ottime cose ecco qua un primo piano di Pate, Pate che poi è stato squalificato per essere risultato positivo al controllo antidoping dopo due anni Pate è un uomo forte, esperto, cattivo, dobbiamo subito dire che gli australiani partono con i favori del pronostico se non altro per la maggiore esperienza del tanto è un grosso esperto conoscitore di arrivamenti e corre sempre all'inite Pate, sia sul tandem che nel caring dovunque monta è molto determinato in prima posizione Paris, Paris che normalmente con capitano correva in seconda mentre Roberto Chiappa è passato in seconda posizione Paris che ha un microfonino proprio accanto all'elmetto a cosa serve? Ci rivolgiamo a Dario Broccardo, coordinatore delle nazionali azzurre ma si tratta di un auricolare che è collegato con un apparecchio ricevente attraverso il quale il tecnico Mario Valentini gli dà eventualmente in caso di si dà qualche consiglio è stata un po' susurita dall'esigenza di Paris trovandosi Chiappa dietro che è molto più grosso di lui di avere un po' di difficoltà a vedere i movimenti del tandem avversario quando si trovasse alle loro spalle l'Italia è giunta in finale dopo aver ottenuto il miglior tempo assoluto nelle qualificazioni 12.540 nei 250 metri con una media di 71-770 poi nel primo turno ha superato la Grecia e nel secondo la Repubblica Ceca Repubblica Ceca che ha conquistato la medaglia di bronzo perché la giuria ha squalificato la Germania per volata scorretta appunto contro la Repubblica Ceca sono ancora 4 i giri da percorre dobbiamo dire che l'andatura è subito notevolissima sentiamo Capitano certo in questo momento la corsa favorevole è da parte dei nostri azzurri perché quelli davanti per tenere il ritmo stancheranno certamente di più le gambe che i nostri a livello tempi gli azzurri hanno dimostrato di essere già perfettamente in sintonia naturalmente una tandem una grande tandem si costruisce con l'esperienza e appunto l'esperienza può far difetto a Paris e a Chiappa manca ecco saper suonare la campana dell'ultimo giro con gli australiani che hanno sempre tenuto un ritmo elevatissimo eccoci la campana dell'ultimo giro 250 metri sempre ecco che inizia la rimonta degli azzurri prosegue ecco che gli azzurri iniziano la rimonta affiancano gli australiani entrano in tiratura il vantaggio l'Italia il vantaggio 1 a 2 per l'Italia l'Italia ha vinto la prima prova della finalissima contro l'Australia telegrafico il commento di Capitano super, sono stati super Italia-Australia 1 a 0 nella finalissima della velocità standard responsabilità della caduta ma qui la giuria termine dopo l'interruzione quando hanno iniziato la ripetizione della stessa manche ha dato 500 franchi svistri di multa con i sofer ritenendo responsabile di essere stato troppo verso l'esterno avevano già segnalato con due bandierini verdi la doppia munizione però anche con i sofer che stava a fase di soffasso aveva l'altro allenatore molto all'esterno è chiaro che la velocità sostenuta e la pista forse un po' troppo scorrevole è stata una delle cause che ha fatto sì che la moto di Valtri sulla linea è scivolata un po' verso l'esterno e sbandata all'esterno della curva ed eccoci alla seconda prova l'Italia conduce 1 a 0 tandem azzurri vittoriosi alle Olimpiadi Peruzzi e Perona nel 48 Bianchetto Begetto nel 60 Bianchetto Damiano nel 64 poi questa specialità è stata tolta dal programma olimpico e ai mondiali le vittorie degli azzurri sono state ad Amsterdam nel 67 con Verzini-Gonzato a Montevideo nel 68 con Gorini-Turrini e poi nel 90 Maibashi con Capitano e Paris che hanno bissato l'anno scorso a Valencia una medaglia d'argento nell'87 a Vienna con Faccini-Nicotti 5 pronti con Turini-Gorini Rossi-Finamore Ceci-Sella Faccini-Nicotti e Faccini-Paris 4 tornate alla conclusione il tandem azzurro composto da Federico Paris Guida con il numero 269 Roberto Chiappa il 260 gli australiani Stephen Pate professionista i due italiani sono entrambi dilettanti ricordiamo che per la prima volta nella storia di mondiali mondiali che compiono quest'anno 100 anni la prima edizione si svolse a Chicago si gareggia con la formula dell'open vale dire dilettanti e professionisti gareggiano insieme i due australiani Stephen Pate è stato campione del mondo della velocità pura nell'88 il suo compagno Danny De Hill numero 72 in seconda posizione è dilettante sta iniziando l'ultima tornata ed ecco che l'Italia in fase di rimonta affiancano gli australiani ecco che suona la campana testa a testa all'entrata dell'ultima tornata 250 metri gli azzurri sono passati sono avanti stanno aumentando il proprio vantaggio questo tandem Federico Paris Roberto Chiappa conquista la medaglia d'oro campioni del mondo Federico Paris e Roberto Chiappa un tandem che è stato costruito soltanto due giorni fa dopo che Capitano aveva dato forfè un tandem veramente formidabile soprattutto considerando che gli australiani come abbiamo potuto vedere nelle semifinali ci sono combattuti ci sono stati veramente fortissimi determinati e anche cattivi in queste due volate sia nella piova che nella seconda prova entrambi i tandem si sono comportati in maniera corretta e i più forti l'hanno dimostrato già in qualificazione quei tempi sono stati noti e hanno vinto con un secco 2-0 l'Italia ha battuto l'Australia nel tandem con la prevenzione della cerimonia protocollare del tandem con la medaglia d'oro e la maglia iridata per Federico Paris e Roberto Chiappa nuovi campioni del mondo del tandem per Paris e la terza maglia iridata dopo Mai Basci nel 90 dopo Valencia nel 92 con il suo tradizionale compagno di tandem Gianluca Capitano che abbiamo sentito in questi due giorni ai nostri microfoni per Paris come dicevamo la terza medaglia d'oro in questa specialità Chiappa si è improvvisato in questo tandem iridato sebbene in passato Chiappa proprio come Capitano avesse vinto un titolo italiano in questa specialità la rinuncia di Gianluca Capitano un po' sconvolto i piani tattici della Nazionale si sono inventati questo tandem che ha saputo sfrecciare verso l'iride verso la medaglia d'oro la supremazia di questi ragazzi è stata schiacciante hanno regolato con estrema facilità i loro avversari sia nei quarti che nel semifinale da subito hanno dimostrato di poter ambire a quest'oro con quel miglior tempo in qualificazione che poi gli ha veramente dato la confidenza la voglia e l'energia di battere via via tutti gli avversari che si sono alternati sul loro cammino ma gli rilano vedete Roberto Chiappa ce lo ricordavamo l'anno scorso a Barcellona nella velocità quarto ed ora campione del mondo del tandem con Federico Paris finalmente arriva la prima medaglia per l'Italia e della prima medaglia d'oro per il tandem nella storia è la quinta medaglia dopo Amsterdam nel 1967 con Vergini Gonzalo dopo Montevideo nel 68 con Gorrini Turini dopo Maimashi nel 90 con Capitano Paris Valencia lo scorso anno sempre con Capitano e Paris questa volta Paris con Roberto Chiappa al secondo posto vedete il tandem australiano con Stephen Tate e Danny Day l'australiano non ha mai vinto medaglie d'oro in questa specialità vanta solo una medaglia di bronzo conquistata lo scorso anno a Valencia con Pedem e Giù allora eccoci alla premiazione del tandem della Repubblica cieca tante cadute in questi giorni sono caduti sia gli australiani nella gara contro la Germania sia i nostri è stata più che altro una scivolata così per esorcizzare quella caduta Gianluca Capitano Pobbieri ci aveva detto che a noi questo tipo di scivolate porta fortuna e bene sono riusciti questi due ragazzi che li abbiamo visti nel corso di questa serata sono riusciti a sfrecciare verso l'oro è la prima medaglia usualmente la pista ci aveva sempre dato grosse soddisfazioni in questi anni è una pista in questa prima edizione open che è stata un po' avara di successi per noi ci hanno pensato Capitano Chiappa scusate i Paris a raddrizzare parzialmente il bilancio della nostra spedizione azzurra e ora in questa cerimonia protocollare per la prima volta riusciamo a sentire io di Maneri azzurra 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.